Mimetic e Kalashnikov al posto di doppio petto e 24 ore. Per il resto entrano al municipio di Donetsk come funzionari qualsiasi e in tutta tranquillità vengono ricevuti dagli impiegati con il cui lavoro promettono di non interferire. Nella guerra di propaganda in corso nell'est dell'Ucraina, i filorussi offrono alle telecamere l'immagine di un'irruzione dolce e indolore nei palazzi del potere. Siamo qui per far accettare a Kiev le nostre richieste, dice un esponente del gruppo filorusso Oplot che ha condotto l'azione. Le nostre sono le richieste dell'agente comune di Donetsk che vuole accelerare i tempi di un referendum. Si limita poi ai cieli e sembra lontana dalla realtà la dimostrazione di forza di Kiev a Kramatorsk. Mentre caccia dell'aviazione volteggiavano a bassa quota sulla città, i blindati ucraini pare siano stati accerchiati dalla popolazione e consegnati ai filorussi che hanno poi fatto rotta su Sloviansk.